C'è un nuovo protagonista che dà ancora più fiducia ai clienti, più organizzazione ai colleghi, più opportunità agli installatori. Immergas presenta Mr. Service. Per qualsiasi esigenza del cliente che riguarda la caldaia, il centro assistenza Immergas assicura grande attenzione al servizio. Mr. Service è molto competente dal punto di vista tecnico e commerciale. Aiuta il cliente a scegliere la soluzione più adatta, che verrà decisa insieme all'installatore di fiducia della famiglia. L'installatore potrà così organizzare in modo ancora più efficiente il suo lavoro. Mr. Service esegue la verifica iniziale e Immergas garantisce i ruoli dei professionisti. Ecco perché il punto di forza di Immergas è la qualità del servizio. Mr. Service si assicura che l'installatore sia soddisfatto e che i clienti abbiano ottenuto la soluzione migliore. Mr. Service. Un altro passo avanti per il nostro servizio.